Andate un anno quasi, hai fatto il coronavirus, pensi di avere ancora gli anticorpi? Sono certo di avere gli anticorpi perché con i pochi e piccoli strumenti che oggi siamo in grado di avere tecnicamente ogni settimana mi faccio un pungidito, però ero curioso e grazie al dottor Pucci che mi ha dato questa possibilità di farlo in maniera scientifica con questo test nuovissimo della Diasori quindi sono molto contento che Claudio mi abbia dato questa opportunità per me e per tutti quelli che mi stanno vicino perché mi sentirei più tranquillo nel conoscere esattamente lo stato di salute. Sarai il vaccino? Non appena mi chiameranno mi presenterò un'ora prima dell'appuntamento per non rischiare di essere in ritardo. Grazie.